Fumo denso, le fiamme, tra gli scenari da fronteggiare, l'incendio su un tetto, ma anche in una galleria, oppure scaturito da un incidente stradale, le auto avvolte dal fuoco, i secondi contatti per agire in sicurezza, tutto ricostruito fedelmente. Siamo nello scenario dell'incendio Cassone, stiamo testando proprio in questo scenario varie tipologie di liquidi schiumogeni. Istantanei, dietro le quinte, siamo alla scuola di formazione operativa di Monte Libretti, alle porte di Roma. Qui squadre da tutta Italia partecipano alle esercitazioni, si testano materiali d'avanguardia e si mettono a punto le procedure da utilizzare poi nelle operazioni reali, emergenze che i Vigili del Fuoco devono affrontare ogni giorno. Consente ai Vigili del Fuoco di addestrarsi e di riportare sul territorio questi nuovi principi e nuove tecniche. Sono passi fondamentali in un lavoro ad alto rischio a fare la differenza oltre al coraggio, tecnica e preparazione. Sono momenti che ci permettono di crescere formativamente e di apprendere e condividere le migliori tecniche per affrontare le diverse tipologie di intervento che si presentano.